Un incontro per illustrare gli avvisi rivolti alle imprese turistiche elaborati e promossi dai dipartimenti turismo, marketing territoriale, mobilità e sviluppo economico e attrattori culturali si è svolto in cittadina regionale a Catanzaro. Nel corso dell'iniziativa, con la presenza delle imprese alberghiere e del partenariato del settore, ci si è soffermati in maniera più specifica sull'avviso Family Hotel, il quale, finanziato con 16 milioni di euro dalla PR Calabria Affairs FSE 2021-2027, prevede investimenti per l'ammodernamento, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione di strutture ricettive alberghiere, al fine di conseguire le caratteristiche minime per la realizzazione di strutture per famiglie con bambini neonati, per offrire un'accoglienza su misura alle esigenze delle famiglie in viaggio. La grave situazione in cui versa la sanità nel Vibonese è inspiegabilmente sottovalutata. Ormai da troppi anni i vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere sono dirette da commissari straordinari che sovente vengono confermati senza effettuare un'appropriata valutazione in merito alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati e quanto afferma in una nota Raffaele Mammoliti, consigliere regionale PD, l'indizione dell'avviso pubblico di selezionare per la formazione delle rose degli doni al conferimento degli incarichi di direttore generale dell'ASP di Vibbo, azienda ospedaliera Cosenza e del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria rappresentava, continua Mammoliti, soprattutto per Vibbo che in cinque anni ha cambiato ben cinque commissari, la fine della precarietà attualmente con una guida anche part-time. Da quanto si è potuto apprendere la selezione prevista e saltata sembrerebbe a seguito dell'invio della commissione prefettizia all'ASP di Vibbo Valencia. Ci lascia molto perplessi tale motivazione in quanto a nostro avviso l'attesa degli esiti della commissione d'accesso non avrebbe dovuto inficiare la manifestazione di interesse indetta. Ho presentato un'apposita interrogazione a risposta immediata e chiederò al capogruppo del PD di chiederne l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale qualora la risposta non arrivasse nei tempi previsti. Centinaia di trattori che a velocità ridotta percorrono le principali strade calabresi con inevitabili disagi alla circolazione e la protesta messa in atto dalla Sila fino a Catanzaro dagli agricoltori calabresi per protestare contro l'aumento sproporzionato del prezzo del gasolio agricolo e delle materie prime, la concorrenza sleale dei prodotti internazionali e le politiche dell'Unione Europea che favoriscono la vendita di prodotti come la carne sintetica. Vogliamo i fatti, ha spiegato Roberto Castiglione, agricoltore che fa parte del gruppo agricoltori silani riuniti, sigla indipendente e costituitasi per l'occasione. Altre iniziative analoghe si sono svolte a Castrovillari e nel Crotonese dove la protesta ha interessato la statale 106 percorsa dagli agricoltori con i loro mezzi partendo da Crotone per dirigersi in direzione sud fino a Steccato di Cutro. Anche la statale 280 tra Catanzaro e la Mezzia è stata interessata dalla manifestazione. Il capogruppo del PD in Consiglio regionale Domenico Bevacqua in una nota esprime la propria vicinanza e la propria solidarietà ai lavoratori del comparto agricolo calabrese che stanno manifestando in queste ore su tutto il territorio regionale il malessere che stiamo registrando da ferma Bevacqua è profondo ed è figlio di una cattiva gestione complessiva nazionale e locale che non ha tenuto nella giusta considerazione le necessità degli agricoltori messi a dura prova dalla pandemia, dalla guerra e da una crisi economica che ha visto lievitare i costi per la gestione delle imprese con aumenti inconcepibili per carburanti e materie prime. Per non parlare poi della crisi che hanno dovuto subire gli agricoltori a causa delle continue incursioni dei cinghiali e i danni con cui sono stati costretti a confrontarsi i produttori vitivinicoli per l'effetto dei cambiamenti climatici. Inevitabile che prima o poi questa situazione scoppiasse in tutta la sua gravità specialmente in una fase in cui ci si aspettava invece un'iniezione di risorse dei fondi europei e dalla PNRR. E' partita a Catanzaro dalla sede della Will di Piazza Matteotti e la prima delle 13 tappe della campagna La tua sicurezza non è uno yo-yo dopo un infortunio, non si può tornare indietro. Promosso dalla Will artigianato in collaborazione con EBAC e Opera Calabria, obiettivo dell'iniziativa è creare una coscienza della sicurezza negli studenti e giovani lavoratori attraverso laboratori per un welfare di successo nell'artigianato. Creare una mentalità che faccia dire alle persone, faccia capire ai giovani e a coloro che si approcciano al mondo del lavoro e coloro che operano e lavorano già all'interno delle aziende è l'importanza della sicurezza. Quindi oggi lanciamo questa ulteriore campagna che ci vedrà impegnate nelle prossime settimane in giro per la Calabria. Ciò che ci preme è diffondere quello che noi facciamo in questo percorso che porta verso una celebrazione del trentesimo compleanno del nostro ente perché le nostre misure possono essere un valido supporto per le aziende e molto spesso vengono disconosciute. L'obiettivo dell'età è proprio far conoscere il nostro modo di essere vicini e tutto ciò che facciamo a sostegno del comparto dell'artigianato. Gli RLST della Villa Artigianato somministreranno un primo questionario che consentirà agli studenti di esprimere le loro idee sulle prestazioni di welfare, mentre un secondo questionario sarà consegnato ad ogni studente che avrà qualche giorno di tempo per esprimere attraverso la compilazione una propria idea utile a divulgare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'idea vincente sarà premiata con un monopattino elettrico. E quindi cerchiamo di andare noi incontro a loro, nel senso che cerchiamo in qualche modo di poterli fare confrontare con noi perché riteniamo che la sicurezza non sia solo un fatto normativo o solo un fatto ispettivo o di punizione, ma debba essere un fatto culturale. Grazie a tutti!